Siamo partiti, qui stiamo parlando degli anni 50 e stiamo parlando di una delle cose basic degli uomini, gli uomini hanno pochi interessi, basic, si parla ognuno di questi e non si commenta molto bene, non ci fa una gran figura la signorina, ma questo ha un po' di importanza e in fondo noi facciamo per ridere. Siamo partiti, qui stiamo parlando degli anni 50 e in fondo noi facciamo per ridere. Siamo partiti, qui stiamo parlando degli anni 50 e in fondo noi facciamo per ridere. Siamo partiti, qui stiamo parlando degli anni 50 e in fondo noi facciamo per ridere. Siamo partiti, qui stiamo parlando degli anni 50 e in fondo noi facciamo per ridere. Siamo partiti, qui stiamo parlando degli anni 50 e in fondo noi facciamo per ridere. Siamo partiti, qui stiamo parlando degli anni 50 e in fondo noi facciamo per ridere. Siamo partiti, qui stiamo parlando degli anni 50 e in fondo noi facciamo per ridere.